ciao a tutti e benvenuti in questo video oggi vi parleremo di un filato che farà battere il cuore di ogni appassionato del knitting e dell'uncinetto una sorta di matrimonio di lusso tra i filati dell'alta società immaginate l'incontro tra lana merinos e acrilico top quality parliamo e analizziamo nel dettaglio il filato patti lo abbiamo già detto prima lana merinos e acrilico top quality sono le composizioni presenti all'interno del filato patti nel dettaglio il 25 per cento lana merinos e il 75 per cento acrilico top quality il patti si presenta così in un formato da 100 grammi per una lunghezza di circa 400 metri per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 2 3 oppure dei ferri 2 e mezzo 3 e mezzo eccolo qui lo vedete davvero molto morbido credetemi al tatto perfetto per tantissime creazioni di cui parleremo tra poco veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio che troverete direttamente sull'etichetta posta su ogni gomitolo consigliamo di lavare la creazione che andrete a realizzare ad una temperatura che non superi i 40 gradi per i primi lavaggi sicuramente meglio utilizzare la tipologia di lavaggio a mano sconsigliamo di stirare la vostra creazione è possibile invece inserirla all'interno di un'asciugatrice mi raccomando però con un programma delicato e consigliamo sempre di fare prima una prova con un piccolo campione sconsigliamo di candeggiare la vostra creazione ed è possibile invece utilizzare tutti i solventi eccezione fatta il tetra cloretilene ma adesso vediamo tutte le varianti di colore disponibili in questo patty ciao 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 che sono presenti all'interno di questo filato patti morbido come la braccia di un panda e resistente come un supereroe insomma possiamo definirlo il filato dei sogni si adatta perfettamente a qualsiasi tipologia di progetti questo per la ovviamente composizione ma anche soprattutto per lo spessore del filato e parlando di adattabilità diciamo anche che il filato patti va bene per adulti ma anche se non soprattutto per i bambini infatti proprio questa composizione permette di realizzare copertine cappellini cardigan e qualsiasi altro capo che renderà felici gli adulti ma non solo sicuramente anche i più piccoli volete una ciliegina sulla torta la manutenzione lavando infatti il vostro capo alla temperatura che abbiamo suggerito potrete avere quella brillantezza e morbidezza come se fosse il primo giorno volete usare anche l'asciugatrice no problem basta utilizzare un programma delicato e voilà quindi non lasciatevi sfuggire questa occasione e trasformate i vostri progetti in capolavori proprio grazie al patti se vi è piaciuto questo video cliccate un bel pollice in su e ricordatevi di iscrivervi su tutti i nostri canali social youtube instagram pinterest e tiktok ma soprattutto anche sul nostro gruppo tessiland l'unico esclusivo e solo gruppo ufficiale di tessiland noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.